Iting, mi lasse ne me lasse ne Natale Kale Api occupe mi chiume di Babale che c'è tu la inni? Kaoru inna Kandel? Stiamo aspettando? Babbo Natale Ah, Babbo Natale, api i Santa Claus eri kami balang inni Hebei i ogullo buon delamai wagi hijiena tamai tegi hambe Emaneider, comportamento come? Siete stati bravi tutti? Sì Scuola com'è andato? Benissimo Aptate mammy, mi natal kane ogullomi Ammat, tatat, yaluant, hemmote va subpetuade, vishkarade Avete detto auguri a tutti quanti? Sì Ah, bene 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 Stiamo aspettando Babbo Natale eh Api mi balang inni Santa Claus eri kami Senta Claus eri dhu dhani ne Apti heethan ne apti babal haarimmo ondai eke lomkod Mee paara apti dh lukkuu fight kattikun Fight against invisible enemy Covid ekk Ittik e apti daak ota aag babal hae eke tuk karage Apti laksana hall eke Mee uitzave Etere TV Christmas with kids Apti dh bain eke kararana bhaan Quindi, per questo, ci sono un prego di Dima, per noi, è un taglio di Dima. Quindi, il primo è un prego di Dima, quindi il primo è un prego di Dima. Se volete fare qui, ok? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti